Come disabilitare Windows Defender l'antivirus su Windows 11 ultima versione ovviamente per quelli che stanno scaricando applicazioni e Windows Defender blocca così quell'applicazione puoi semplicemente andare direttamente sullo scudo di Windows Defender andare direttamente su protezione da virus e minacce vai direttamente su gestisci impostazioni e qua tu puoi disabilitare il tuo antivirus su protezione fondamentale da cloud invio automatico di file di esempio e protezione antimanomissione oppure se hai un provider un programma che è collegato a Windows Defender tipo per esempio protezione temporale il mio antivirus è disabilitato ok la protezione temporale è disabilitata perché è controllata già da un provider che sarebbe il mio Avast Free Antivirus quindi basta che cerco sopra, tasto destro sopra, controllo protezione di Avast, disabilita per 10 minuti e ora ho disabilitato il mio antivirus come puoi vedere anche su Windows Defender è disabilitato oppure semplicemente possiamo andare a scrivere qua sopra Firewall Windows Defender Firewall eccolo qua impostazioni avanzate azione proprietà profilo di dominio attivo metti disattivato tutti e tre ok palla anche su tutti i profili qua e poi fai ok attiva disattiva Windows Defender Firewall non me lo fa cambiare perché è connesso ad Avast clicca qua sopra e qua vuoi disabilitare il tuo Windows Defender Firewall quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao